Eccoci qui, eccoci qui, il giorno dopo Hellas Verona-Torino finisce 0-1 con il gol di Josip Brekalo. Siamo, è stata una partita giocata abbastanza alla pari per quanto riguarda il numero di tiri totali, il numero di tiri in porta, che sono, il Celiò qua davanti sono praticamente gli stessi, però siamo riusciti a farci valere, siamo riusciti a portare a casa tre punti, tre punti che non era facile da prendere in un campo come quello di Verona, affrontiamo che comunque il Verona non è una squadra che ti lascia facilmente giocare, non è una squadra facile da battere e qui siamo riusciti a prendere sei punti con il Verona, sia all'andata che al ritorno. Siamo riusciti a prendere sei punti, siamo riusciti a portarci a casa questi punti che servivano, non tanto a livello della classifica, perché comunque la stagione del Torre è finita a febbraio per quanto mi riguarda, la stagione del Torre era finita a febbraio, però questi punti servivano per l'umore, per il morale della squadra, dopo la sconfitta con il Napoli, dove in pratica di quella partita non è che si potesse dire molto, è stata una partita di una noia mortale sostanzialmente, l'unica emozione è stata data dal rigore parato da Berisha, l'unica emozione di quella partita. Il Toro quest'anno è stato così, abbiamo raggiunto la quota 50 punti, che dopo due stagioni passate a rasentare il ridicolo come gioco e come prestazione, sono veramente tanto, sono veramente tanto, e adesso la prossima partita sarà l'ultima di campionato, giochiamo in casa contro una Roma che a differenza di noi, la stagione della Roma non è ancora finita, hanno ancora l'obiettivo Europa League, hanno ancora l'obiettivo, nel momento in cui sto registrando, la Lazio ancora non ha giocato, quindi non si sa bene la corsa all'Europa come finirà, c'è ancora la corsa all'Europa, la Roma ha ancora degli obiettivi, noi obiettivi non ce li abbiamo più, però penso che, spero che si voglia finire in bellezza in casa sostanzialmente, e mi dispiace che il video sia così corto, però non c'era effettivamente molto da dire su questa partita. Ora a testa alla Roma, vediamo di fare bella figura con la Roma.